Senti ragazzi, oggi vi devo dire una cosa un po' brutta, però prima di dirvi questa brutta notizia voglio veramente ringraziarvi con una bella notizia ragazzi, voglio ringraziarvi con tutto il mio cuore perché abbiamo superato, abbiamo raggiunto e superato i 200 iscritti, adesso siamo a 201, ma ragazzi veramente io quando ho aperto il canale non avrei mai e poi mai ho immaginato assolutamente, vi giuro che sarei arrivato a questi traguardi, cioè veramente io vi voglio un sacco di bene, non lo sapete, però torniamo a noi e a questa brutta notizia, allora dovevo fare tipo 3-4 video adesso, col 3ds perché come sapete registro col 3ds e devo fare dei video appunto col 3ds però il 3ds si è scassato, cioè proprio non si accende più, è rotto, ormai ce l'avevo da tipo quasi 3 anni, si è scassato e non va più quindi ora appena posso, cerco di comprarla prima che posso, il prima possibile, devo comprare una telecamera, la comprerò HD sicuramente, ma a tempo che la compro appunto, vediamo se mi toccherà fare 2-3 video con il telefono, usciranno come sapete le fasce nere intorno, poi cercherò di toglierle ma comunque ragazzi perdonatemi se usciranno i video con le fasce nere 2-3 volte, basta ma poi ragazzi il comprerlo a delle cameracche di veramente, perché il 3ds è esploso, tipo adesso è di là a fiamme, e vabbè niente, per questo video è tutto, spero che niente, e seguitemi sulla pagina di Instagram se vi va, ciao